500 dollari, un intero negozio pieno di arredamento, tutti questi soldi da spendere, non vedo l'ora di iniziare Ferre tu cosa vuoi? Ti compro tutto quello che vuoi Allora mi servono i tavoli, le sedie e qualche decorazione Perfetto, non ti compro nulla E ragazzi come va? Io sono Ferre Niki E io sono Stef e chiesto di chiamare Roblox E siamo di nuovo qui sul Restaurant Tycoon, non abbiamo resistito, stiamo registrando subito il secondo episodio E siamo prontissimi per decorare il nostro nuovo ristorante Esattamente, allora abbiamo fatto un bel po' di soldi entrambi e abbiamo fatto anche una scoperta molto interessante Vi ricordate i diamantini che servivano per fare il pavimento di colore diverso nello scorso episodio? Ecco i diamantini li possiamo fare con le mance Esatto Le mance le possiamo ottenere a caso dei clienti che ovviamente vengono a mangiare nel nostro ristorante E adesso verranno minacciati tutto il tempo per lasciare una mancia Ma io volevo dire che costa 10 diamantini cambiare il pavimento del mio ristorante e ne ho già 9 Quindi mi manca reattivamente poco Perché io ne ho solo 3? Perché a me hanno dato la mancia 3 volte 3 diamantini A te le hanno dato una sola volta Ma perché hai sempre fortuna in queste cose? Perché? E io non ce l'ho mai Perché la mia pizza è la più buona di tutto il mondo Non è giusto È così Fede, è così Allora, facciamo prima il mio shopping dato che ho un sacco di soldi? Sì, 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 sì Costa 75, vedi tu, non so poi quanto vuoi spendere in altri tipi di decorazioni Dai, 75 ci sta Secondo me non è molto ed è molto carina Cioè, mi piace proprio un sacco E poi domanda subito per te Quando avrai il ristorante più grande? Avrei due cucine e due persone che cucinano per avere tanti clienti in più? Eh, non lo so Potrebbe essere Potrebbe essere Potrebbe essere Ok, allora, dopodiché io sinceramente voglio questi tavoli rotondi Costano 35 l'uno È il tavolo cinese oltretutto Lo so, però non mi interessa E pensavo a un colore come questo Ti piace? Perché con le sedie rosse, capito? Questo tavolino blu Sì, ci può stare Secondo me ci sta molto bene Allora, ne compro uno, due Quanto ho? Ancora 3,50 Dai, li compro tutti Ok, quattro Sto già finendo i soldi per Eh, lo so, costa tutto preghi Allora, le sedie devo continuare Quindi a comprare queste rosse Facciamo che ne compro altre sei Così, basta, basta, basta No, ma io voglio vedere anche cosa c'è il pieno di sopra Vieni Andiamo Vieni, che l'altra volta non me l'hai fatto vedere Quindi adesso voglio vedere Prima di decidere cosa comprare Ti prego Voglio vedere tutto Niente di bellissimo, se non rosico No, mi sa Oh mio Dio, cos'è Oh mio Dio Guarda tutto questo Guarda questo Ma lo posso comprare? No Non si può comprare però Posso me Ah, questi sì No, vabbè Posso mettere Posso anche cambiare di colore? Però bianco è perfetto questo Cioè, sinceramente Dimmi, Fere Ho trovato quello che voglio comprare Questo Fere, ma non ci sta, è gigante E non lo puoi neanche comprare oltretutto Ah, peccato Però è bellissimo Anzi, meno male Perché se no l'avessi comprato Vorrei una piantina Questa rossa mi piace molto Eh, anche a me piacciono Vediamo quali posso prendere Ok, mi piace così Quanto costa? Poi un fiorellino Questo Molto bello Perfetto E infine Mi rimangono Cento dollari Tondi tondi Che voglio spendere Per un'altra cosa Che ancora non ti dico Quindi io ho finito Fai tutto lo shopping anche tu Ma io volevo dei consigli E tu te ne stai andando No, no, resto qua Però i consolini non lo vedranno Perché il tuo ristorante Rimane a sorpresa dopo Vieni, Fere Guarda che bello il mio ristorante L'ho redatto tutto tantissimo Wow Dai, muoviti, muoviti Allora, Bull Voglio partire dalla nuova cucina Assolutamente sì Ma tu l'hai comprata la cucina alla fine? No, no, non mi uscita Guarda Oh, bella Mi ha rotto la frase però bella Bella questa No, hai fatto bene Ci sta super bene Poi, tavolino Ti piace? Tavolino Molto, molto, molto Tavolino E poi pensavo Tavolino in disparte qua Per chi vuole stare un po' più In pace con se stesso Sì, sì Mi sembra giusto Allora, facciamo questo Sbagliato Dannazione Dicevo Questo da due Questo da tre Sì, queste sedie sono perfette Per questo tavolo No, no, no Ma sicuramente sono fatte apposta Sono fatte apposta Allora, dimmi che mi esce da quattro No, da tre Oh, cavolo Eh, vabbè Eh, vabbè Mondo credere Un tavolo qua Per chi ha pochi soldi Dici Quindi Sì E quindi sparte dietro la cucina Con le sedie brutte Della serie che un po' ti aiuta pure Perché tanto Esatto Visto che c'è Visto che c'è Lava i piatti Esatto Qualcosina Le mettiamo a fare Così Che dici? Almeno un tavolo da quattro C'è così No, ma mettili a fianco le sedie Perché le hai messe tutte storte? Perché sono brutte Poi questa a fianco a questa Vabbè, vabbè Dai, ci sta Poi mamma Non ho che fai soldi Te lo migliori Anch'io non ho completato tutto Quello che ti stavo per dire all'inizio Che ho tipo Certi tavoli belli E certi tavoli brutti Siamo poveri Allora Se però rimuovo questo Un attimo Che voglio il colpo finale Che proprio ti disintegra E ti fa capire Che Steph E un altro livello Boom Non si mette Si mette all'ingresso Non puoi Non puoi Ma dai Si doveva mettere dall'altra parte Secondo Non puoi Anche valendo non posso Ma poi perché hai comprato quella greca? Eh perché è bella Mi piace Nel ristorante italiano Mi metti le colonne greche Allora I greci e gli italiani Nella storia Andavano molto d'accordo E noi italiani Copiavamo tutto il tempo Ai greci Per un periodo Quindi Io li sto copiando di nuovo Per tornare alle vecchie origini Bravo Ok Grazie Allora Spiega a tutti i clienti Quando entrerà Esatto Guarda Buongiorno clienti Vi piace molto Eh anche a me Anche a me Vero Da un tocco di classe Allora vi mando in questo tavolo per poveri Perché siete in quattro Mi dispiace Più siete Più I primi che arrivano Subito così Più dovete stare nei tavoli Comunque si A me piace molto Così Così Start working Ok E chi c'è? Cosa succede? Eh praticamente Avevo ragione Puoi mettere più persone A cucinare Ah ok Sì Allora lo pago Due dollari Ogni due minuti Non è neanche troppo Non è neanche troppo Esatto Abbastanza sobrio E praticamente Dicevo Per ogni cucina che hai Tu puoi mettere una persona a cucinare Ma c'è una cosa in più Cosa? Puoi metterle a cucinare Diversi tipi di cucina Cioè che non fai solo quella italiana? Ah ah Dai Già Ma che bello Cioè io potevo mettere la tizietta questa qui A cucinare giapponese Però il problema è che a quel punto non potevo io più cucinare E quindi sarebbe stato un problema Emanuela Nessuno ti ha ordinato quell'insalata Spiegami che cosa non hai capito degli ordini che ti avevo detto Ti ho detto delle pizze E mi fai un'insalata? Ah Non ci siamo Guarda la faccia Continua a ridere Eh l'ho già guardata L'ho già guardata Continua a ridere Non si pente di nulla Non si pente di nulla Non so se ti voglio tenere Perché questi due dollari Poverina due dollari Vabbè ogni due minuti in effetti non è neanche poco Aspetta non è due dollari l'ora Cioè ogni due minuti Quindi diciamo che non è che sta proprio lavorando gratis Non fa la fame Non fa la fame Diciamo che viene pagata abbastanza bene Quindi stia attenta a non sbagliare più E mi faccia le pizze quando gliele chiede Esattamente come ha appena fatto Allora tengale la pizza Invece gli altri spaghetti bolognese Forza veloce veloce Sta facendo attendere i clienti Grazie Complimenti che è abbastanza veloce È tutto più bello con una persona che lavora Sì sì Ma è anche tutto più bello con tanti tavoli Ed è bello vedere il ristorante super pieno È molto molto meglio Faccio il pazzo Uh la mancia a fare Guarda Guarda i diamantini Eh sì 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 Opla E quindi posso fare una cosa Ok aspetta Il pavimento il pavimento Già Però prima devo fare un'altra cosa Ok Workers Questo E mettiamo un maschio Dato che abbiamo preso una femminuccia Start working Ok Guarda Cameriere? Sì Oh che bello Ma qui non fai più niente E guarda Ha preso pure l'ordine di quello buggato Bravissimo Bravo 100 dollari al minuto Bravissimo Bravissimo Solo per aver faggato il cliente E poi lo posso pure aiutare Che comunque è molto carina come cosa Mi piace il fatto che puoi sia aiutare sia decidere di lasciargli il lavoro Ok soldi Anche perché così te ne vai a fare shopping e lasciare l'isperante aperto Perfetto il tavolo Perfetto Il tavolo da tre Bravissimo Con l'insalata anche lui non sa che farci Guarda E qui che la fissa fa Emanuela Ma che hai combinato? Nessuno te l'aveva ordinata Moonwalk Pure un ballerino Dicevo Magari prima o poi qualcuno l'ha ordinata e lì pronta Esatto Teoricamente adesso l'hanno appena ordinata e l'è pronta Ma secondo me Emanuela ne fa un'altra Guarda Guarda Eccola Vabbè Vabbè Lo sapevo Andiamo ad accarezzarle la testa Dai Non è successo nulla Invece se vi state chiedendo il nome delle cameriere è Fabio Ok Ok perché magari qualcuno se lo stava chiedendo Non lo sta chiedendo nessuno ma grazie per la precisazione Allora Ordini Prendiamoli tutti Ha dato subito il tavolo Ma Farè Sai che ti dico? Vengo da te Perché tanto lì lavorano benissimo da soli Vengo a vedere il tuo ristorante E a darti una mano qua Non è ancora completato Allora fai finta che queste sedie non ci siano Ok I tavoli dovranno essere tutti così Ok Color lavanda Se proprio vogliamo precisare qui le tonalità Le sedie Le tonalità No Il color lavanda è il tavolo Cioè stavo dicendo il tavolo è il color lavanda Ok Pensavo E le sedie sono color panna Suppongo Ok Sì ho messo queste basse perché mi sapevano molto di E le altre sedie color sole Eh per dare allegria al ristorante Assolutamente Dai No però molto bellino Basso basso ci sta benissimo nel ristorante giapponese Però sai che cosa faccio? Dimmi Farè Perché io sono sempre nel tuo e quindi sono impossibilitata a lavorare Ok Io lo apro e assumo i dipendenti Ok tanto due all'ora per quanto guadagniamo Eh esatto Visto che ci sei che hai detto tornare da me Vieni da me un attimo Ma vuoi vedere che bellini stessi di me No no Farè vieni Vieni anche calcolati dai Vieni da me poi vengo da te Tu vieni da me io poi vengo da te Che noia dai su Che succede? Guarda per terra Hai pensato il pavimento rosso Sì Ah che bellino Vero? Bellino rosso sì mi piace Uh la mancia la mancia Perfetto Bravo cameriere e bravissima Emanuela State andando benissimo e un sacco di mancia Scusa Fabio non so perché ti ho chiamato cameriere Tu sei Fabio il nostro migliore amico Allora Andiamo a vedere il tuo ristorante Ferre Forza 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 Ti dicevo guarda che bellini nei tavolini nuovi Vediamo Beh guarda che sono proprio bellini Sì Ci stanno proprio bene Allora se pensi che poi saranno tutti così Sì sì Mi piace mi piace mi piace Invece volevo vedere le valutazioni del mio ristorante e del tuo Allora tu hai un 2.3 con comfort a 4.5 Quindi quei tavoli e quelle sedie piacciono molto Sì le sedie secondo me per quello che costano Devono essere sicuramente comodissime Perché le ho pagate davvero tanto Esatto Io avevo 2.0 Come 2 Sai perché? Perché Perché Fabio è scarsissimo e ha la service speed a 1 Stef? Sì? Devo darti una cosa Tieni Fede Il mio cuoco ha sbagliato un ordine Non lo vuole nessuno E ho deciso di portarlo da te Anche da te è successo Qualcuno vuole degli avocado sushi roll Appena fatti Fede Allora se ce l'ho da dei miei clienti Volevo dirti una cosa Vieni con me Dimmi Vieni Vieni seguimi Ho una sorpresa per te Ok Il mio piano finalmente è finito e è concluso La mia valutazione a 2.1 finalmente aumenterà Perché sono molto triste di questa valutazione così bassa Dopo tutto questo impegno Perché io sono lì che lavoro tutto il tempo Sì sì certo certo Vai 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 Su non ti lamentare Non ti lamentare Allora aspetta che devo ricordarmi dov'era Mmm Che cosa devi prendere Ah no Siamo venuti qua per nulla mi sa Fere aspetta Come Aspetta no aspetta Dove era Cosa devi fare Dimmelo che ti aiuto No non te lo dico Perché è una sorpresa Le sorprese non si dicono È più grande Sì Che be No ma si ingrandisce pure di parecchio Ho pagato 500 dollari E l'ho fatto diventare molto più grande Che ci stanno un sacco di tavoli in più Che bello Allora aspetta un attimo che voglio rimuovere questo Sì ma vendi tutto che ti fai anche un po' di soldi Vendo tutto No 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 Non vendo nulla Come no No perché guarda adesso cosa faccio Allora costruisci Aggiungo Sbaglio i tasti Aspetta fare un attimino Aspetta ti aspetto Così Ok Hai capito Doppia cucina Sì Ottimo E quindi Doppio cuoco Ok Quindi mi assumo un altro chef Facciamo un uomo Che cucina E Facciamo cinese Vai Vai Sì non mi farei concorrenza Ti prego Assumi Esatto Non ti faccio concorrenza perché sono gentile E teoricamente adesso abbiamo uno chef cinese a lavorare da questa parte No smetti di dare le tue insalate Smetti di copiarle Emanuela ha sbagliato prima Secondo me vi piace molto Di due giorni ormai Quell'insalata Non è vero È freschissima Ci sono Mozzarelline freschissime Con pomodorini Proprio appena fatti Buonissima La volete? Oh non la voglio Non li vogliono mai Anche se li ordinano Lo so Lo so Hai visto che bello il mio ristorante Molto molto bello Hai aggiunto Ah bello Ho aggiunto questi fiori Le lampade per fare un po' di luce È questa pianta che mi sapeva proprio In tema giusto per il mio ristorante È vero È vero È vero Ci sta Ci sta Ci sta Dai Direi che ci possiamo fermare così Allora Prossimo episodio il mio obiettivo sarà quello di riempire di tavoli Migliorare la cucina del secondo cuoco Sì di fare proprio il ristorante gigante Mettere un altro cameriere a lavorare Insomma Tante 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 cose da fare Quindi Dovrò gestire tutte queste cose Volevo vedere il primo ordine cinese Ma niente da fare Dopodichè Aumento i tavoli Aumento le decorazioni E cerco di capire come si fa A salire l'intrattenimento Ok Perché su quello ho qualche dubbio Comunque Ci fermiamo così Speriamo che questo video vi sia piaciuto Credo che il prossimo nel caso sarà il terzo E l'ultimo video Sempre se questo esce Perché non sappiamo se i consolini Ma sì che esce Sarà piaciuto il primo Ma credo Piacere a tutti i consolini Quindi tanti like Se tanti commenti Sondaggino E ci fermiamo così Spero che se li esce così Se ci lasciateci un like E se la prima volta che vi vedete il nostro video Potete considerarvi Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao